Allora Cosso e siamo qui a Immolta Cosso, guarda che bellissima, guarda che aspettiamo! Perché anche Leonardo di Garciana Cosso e viene a mangiare a Immolta! Oh, guarda grandissima! Ciao Nando, come vai? Bene, bene! Allora, buona! C'è Nando! Simona, buonasera! Buonasera Nando! Oh, Paperino! Mi la fa una pizza! Veloce, eh! Ci facciamo la mattina perché gli ho freddo! Allora che aspetti! Il fospe? Sì, il fospe! Eeeh! Se lo riaccendi! Allora te lo riaccenderò! Se lo riaccendi un po' l'acqua di Barri! Eh no, la c'è la piuva! Sì, va bene? Andrea! Oh Nando, dimmi! Allora, questo ragazzo mi sta dicendo che la pizza! Launch! Eh no! E si fa settembre, Nando! E si fa settembre la pizza! E si fa settembre la pizza! Come tu mi sistemi? Che puoi fare Paperino? Una? Mi sistemi! Ma guardate porchetta! Guardate porchetta! Vai, lo sai! Mi fai il tavolo fuori! Vai, lì! Ma guardate! O io, v Jacob! Come si sta i bottegoni? Eh? Ma quella acqua? Che ne andai a pigliare la pietra alla fonte o me la portai? Ma der dealt vrij! O io, lo devo dare la pietra la fonte. che specialità che bontà perché anche leonardo di garciana va a imbossare a tesinare ea cisa